Ciao a tutti ragazzi e ragazzi, benvenuti sul mio canale. Questa è la seconda parte per quanto riguarda shopping compulsivo fatto nel periodo dei saldi e quindi ho preso svariate cose, tra cui qualche maglietta. Ebbene sì, se avete visto già la prima parte sapete tutti che ho buttato un sacco di magliette, sapete tutti che ho acquistato un bel po' di magliette. Quindi vi faccio vedere cosa ho preso. Sono stata da Piazza Italia, c'erano ovviamente saldi e quindi ho deciso di prendere qualche magliettina perché mi servivano veramente, mi servivano. Ho preso delle magliettine basiche, semplici, senza troppi disegni, senza troppe cose in giro perché spesso mi capita di indossare dei pantaloni, se avete visto gli outfit dell'anno scorso dove ci sono tipo delle rose o sono troppo disegnate e tutto e quindi mi servivano delle magliette proprio semplici, senza nessun disegno, senza niente sopra per abbinarle a quei pantaloni. E quindi cosa ho fatto? Ho preso i colori che si stanno usando quest'anno tra cui questo colorino qui che è una specie di un color carne tipo salmone la magliettina è così con le maniche proprio tagliate, con fatto il rosvoltino e adoro in assoluto il colletto è a giro collo, semplicissimo e poi è un po' lunga dietro, più corta davanti che è una cosa che io gradisco tantissimo e poi la parte dietro è sempre semplice è semplice sia davanti che dietro io ho preso una L perché erano abbastanza ampie come vestibilità a 4,95€ quindi il prezzo è anche buono questo ovviamente li metto di lato, li laverò e poi passerò a stirarle sempre per il solito motivo ho preso una basica per quanto riguarda il colore bianco proprio bianca ci vuole, veramente ci vuole io adoro queste maniche così, mi piacciono tantissimo ditemi se vi piacciono anche a voi le maniche svoltate in questa maniera quindi che vi vengono tipo corte come questa adoro perché si nota, si intravede il tatuato quindi mi piace tantissimo quindi l'ho presa una bianca e poi ne ho preso una di questo verde bellissimo che starebbe anche bene con questo make up ed è questa, molto molto bella verde devo dire che il verde mi piace non lo so, come mi sta il verde? ditemi se mi sta bene, mi sta male ditemi cosa ne pensate questo è il caldo comunque è questa verde poi sono stata da Pittarello e ho preso un paio di scarpe aperte perché per il giorno del compieno di mio figlio io indosserò un paio di scarpe che è uno stivaletto abbastanza alto per paura che mi possa anche far male i piedi eccetera eccetera ho preso un sandalo da mettere se mi fanno proprio male l'ho preso a 17 euro ma poi c'era lo sconto e ho preso questo sandalo semplicissimo quindi da mettere con il biker sto scherzando ovviamente no, mi viene da ridere perché se vedete il vestito cioè queste sono delle ciabatte allora io questo tipo di scappa la utilizzo la utilizzo con i pantaloncini la utilizzo con dei pantaloni leggeri leggeri tipo aladino le indosso con questi outfit mi veniva da ridere perché volevo farvi vedere tipo questi li metterò per il compieno di mio figlio ovvio che no non perché ci sia qualche cosa per chi le indossa e tutto ma perché io le indosso tutti i giorni perché devo avere un po' di tacchetto per quanto riguarda la mia postura devo avere un po' di tacchetto ma questo è il 39 e ho sbagliato il numero li devo andare a cambiare perché dove prende il 39 nemmeno quando era piccolo prendeva il 39 comunque queste le indosso sempre per quanto riguarda tipo vado da mia mamma oppure vado a fare la spesa io indosso questo tipo di scarpa perché col fatto che porto la calza posso uscire il pollicione da qua quindi indossarle già ho visto che è il 39 quindi già mi sto leggermente sentendo male poi quando lo dirò alla mia migliore amica lei si sentirà proprio peggio di me poi finiamo questi acquisti per quanto riguarda i saldi perché siamo stati anche da Terranova questo è il sacchetto Terranova non è che proprio c'erano delle cose carine sinceramente una maglietta non mi è passata scontata ma l'ho presa lo stesso perché mi piaceva nel senso che non c'era uno sconto buono diciamo abbastanza io di solito acquisto massimo le magliette che prendo tipo un 6 euro 7 euro così invece questa è costata 9,99 euro ed è questa magliettina sempre con il fatto della manica tagliata così sempre verde ma questa volta con i cactus qui come sfondo e poi alla fine ha questi pompon particolarissimi nella parte di sotto è abbastanza larga come maglietta ed è simile a quella che indosso in questo momento mi è piaciuta e quindi l'ho presa invece tutte le altre magliettine le ho prese a 3,99 euro come vedete qui nel cartoncino 3,99 euro sono delle magliettine semplicissime da utilizzare così sporadicamente e quindi ho preso questa magliettina con il gelato ed è un color salmone molto molto bella semplicissima anche nella parte di sotto e semplice anche nella parte dietro poi ho preso sempre la XL sempre a 3,99 euro questa con il Danetz quindi con la ciambellina e qui mi sbaglio sì c'è una tasca dove c'è il Danetz c'è una tasca ed è molto molto bella anche questa e poi ne ho prese due un po' più glitterate avevo visto altri colori e sinceramente mi sono piaciuti poi vederli addosso sinceramente ci ho ripensato e quindi non le ho prese ho preso di questo ho preso però la M perché sono molto molto larghe e quindi ho preso questa che è Everything c'è scritto giusto Everything sì con la pesca ed è questa qui sempre semplice con la manica corta è tutto e poi ho preso questo che è Lemonade con il limone ma la cosa particolare è che questi sono tipo dei glitter molto molto belli vedete mi piacciono tantissimo la manica è normale quella corta il colletto è normale il cotone è abbastanza leggero e quindi ho voluto prendere queste magliettine mi sono piaciute tutte tantissimo non vedo l'ora di utilizzarle perché come vi ho detto ho buttato alcune magliette quindi devo dire che ho svuotato un cassetto quindi ho fatto anche il decluttering per quanto riguarda l'abbigliamento per quanto riguarda questo video è tutto io come sempre vi ringrazio vi mando un bellissimo bacio ditemi cosa ne pensate delle magliettine se anche voi comprate le scarpe poi notate a casa che il numero è diverso vediamo ora cosa possiamo fare non lo so niente ragazze che dirvi di più aspetto i vostri commenti giù nell'info box e come vi dico sempre se vi è piaciuto il mio video spolliciate se vi va noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao mua